Ciao ruolatori, queste sono le pillole di ruolo, io sono il Curte, benvenuti, benvenuti a questa ripartenza delle pillole di ruolo dopo i giorni concitati di Luca Change, grazie a tutti per esserci stati, grazie a tutti per aver partecipato alle nostre live, ai nostri piccoli speciali, grazie veramente, anche se non siamo potuti essere insieme a Luca è stato bello, l'abbiamo sentito comunque molto vicini, riuscite sempre a trasmetterci la passione che ci permette di andare avanti davvero, oggi parliamo di un aspetto che è giocare bene e giocare male, capita, a me è capitato molto spesso, specialmente giocando con persone che iniziavano a giocare o che giocavano poco con me, che al fine di una seduta mi dicessero, sai, credo di aver sbagliato a giocare, credo di aver giocato male una parte, ed erano sempre riferiti a indizi che non avevano trovato, dialoghi che non avevano fatto come avrebbero voluto, azioni che si sono svolte diversamente da come loro avrebbero col senno di poi affrontato. Allora, ci sono due livelli nel gioco di ruolo, un livello è il metagioco, è l'applicazione delle regole e soprattutto la relazione fra partecipanti, quindi ovviamente lì bisogna stare attenti a non fare errori, ma non fare errori vuol dire essere educati, parlare e lasciar parlare, stare attenti, partecipare, ok? Un mio amico, Daniele Tognarelli, mio master di Mert, diceva, siamo qui per giocare e non per divertirsi, ok? La frase è un po' buffa, però intendeva che nel momento in cui si gioca si sta concentrati sul gioco, ok? Se voi vedete una partita di calcio, anche di calcetto a 5, c'è bisogno di andare sul Real Madrid, nessuno a un certo punto molla la palla per rispondere al cellulare, ok? Se voi guardate qualcuno che gioca a carta al circolino, non è che a un certo punto si alza, ma nemmeno per andare a pisciare se non ha finito la partita, ok? Cioè nel momento in cui si gioca, si gioca, bisogna dare rispetto agli altri che stanno giocando con noi, portando avanti la nostra partita, e ovviamente con educazione e con senso della misura, con un normale buonsenso, ok? Ma detto questo, al livello proprio della partita, in quello che è il mondo immaginario, in quello che è il sogno condiviso, non c'è un modo di sbagliare, ok? Se voi avete già visto le pillole precedenti, quelle che parlano della sconfitta, della morte, che parlano del modo, diciamo, migliore per il master di gestire una campagna, quindi di allontanarsi dal railroading, dall'idea che esiste un solo finale, una sola via, una sola strada, se il giocatore ha accettato che il fallimento fa parte di un'altra narrazione, non della sconfitta, allora, una volta che avete accettato questo, non esiste fallimento, non esiste giocata fatta male, perché se la regina vi chiede di uccidere il drago, ma voi quando andate lì, ve la fate sotto e non uccidete il drago, oppure dialogate col drago e scoprite che il drago, tutto sommato, è una persona simpatica e che è la regina che meriterebbe di essere decapitata, e lo fate, non state giocando male, non state tradendo nessuno, state raccontando una storia diversa, quindi a livello di gioco state tranquilli perché non potete giocare male, potete solo raccontare delle storie diverse rispetto a quelle che si credeva sarebbero state raccontate prima di sedersi, e questa è la grandissima magia del gioco di ruolo, il fatto che ci si siede e non si sa se verrà raccontato una storia horror, se verrà raccontato una storia buffa, se verrà raccontato una storia epica, una storia di fallimenti, una storia di tradimenti, non lo sappiamo, ok? Quindi a cuor leggero giocate e divertitevi, sempre con rispetto per gli altri, sempre con educazione, ascoltando e dialogando con gli altri, ma liberi di fare quello che volete perché nessuno sbaglia nel gioco di ruolo.